Svezi al Gismondi Restituta ha festeggiato i suoi cento anni attorniata dai familiari e amici intimi che l'hanno colmata di tanto affetto. Restituta è nata a Balsorano, provincia dell'Aquila, il 22 dicembre 1909. Ha dato alla luce 11 figli, 8 dei quali sono morti in età compresa tra due mesi e due anni. Il segreto della sua longevità, l'ottimismo innato e l'affetto della famiglia. Oggi siamo qui per il compleanno della nonna, celebrando cento anni. Vogliamo salutare tutti quelli che stanno in Italia, la zia Loretta, con tutti i figli e nipoti. Restituta ha 20 nipoti, 10 in Canada e 10 in Italia e 3 pronipoti. Facciamo a Svezia a Gismondi Restituta i più fervi di auguri per altri cento anni. Grazie. Grazie. Grazie.